ciao a tutti bentornati e bentornate sul mio canale un canale che tratta di recensioni di serie tv film e anime prima di cominciare vi invito se vi va a iscrivervi al canale attivare le notifiche mettere un mi piace nel video che state guardando e soprattutto partecipare alla discussione attraverso un vostro prezioso commento non è importante se sia in accordo o in totale disaccordo col mio punto di vista quello che conta è interfacciarsi sull'argomento che stiamo trattando perché a questo servono i canali youtube secondo me che trattano questi argomenti siete pronti allora partiamo veloci con il primo capitolo gentri ciao contro il regno dei demoni è una serie televisiva americana animata di genere soprannaturale azione o horror per ragazzi creata da hov è prodotta da netflix animation e time house inch la serie è stata rilasciata il 5 dicembre del 2024 ovviamente sulla piattaforma digitale netflix ed è composta da ben 13 episodi della durata di circa 30 minuti l'uno gentri ciao non è altro che un adolescente di origine cinese americane che vive in una piccola città texana la ragazza scopre che un demone le sta dando la caccia per impadronirsi dei suoi poteri sovrannaturali gli stessi che cerca di nascondere sin dalla teneretta quando diede fuoco a un'intera città con l'aiuto della dell'anziana zia che è un'esperta d'armi e un millenario jang shi ovvero un vampiro cinese gentri deve sconfiggere un'orda di mostri dal sottosuolo e al contempo sopravvivere agli orori della vita da studentessa che la tendono nella scuola che frequenta tra amori corrisposti e amori impossibili ho selezionato gentri ciao nella lista dei prodotti che dovevano uscire proprio perché mi ricordava graficamente vagamente hilda chi mi conosce lo sa una delle serie animate che ho maggiormente apprezzato per ragazzi negli ultimi periodi e quindi l'ho messa nella lista delle cose da guardare devo dire poi col seno di poi che la grafica la ricorda effettivamente solo vagamente stiamo parlando di una texture totalmente differente molto meno raffinata molto più diciamo per giovani adolescenti e che dire che presenta degli degli dei momenti di enorme virtuosismo artistico fatti veramente bene ad altri di dozzinale qualità mentre possiamo trovare per esempio combattimenti che sono fatti veramente bene fondali che sono fatti veramente bene e altri che sono fatti veramente male sia come fondali che come combattimenti la renderizzazione 3d è praticamente contenuta al minimo certe cambio di inquadrature o alcune mosse che vengono sviluppate attraverso i superpoteri della protagonista e quindi i modelli 3d sono veramente ridotti all'osso quello che è veramente veramente convincente è la intro una intro realizzata già per un pubblico adolescenziale che presenta una buona colonna sonora delle scene di movimento di effetto che vanno proprio a richiamare quello che ormai è il mondo dei giovani tra ombro una sorella un fratello e una ragazza cioè tutto quel linguaggio che effettivamente va a scandire quella che è prettamente la vita adolescenziale ci siamo un po passati tutti ai nostri tempi c'era al paninaro c'era da 1500 gimme five cioè c'erano ci sono dei momenti nei quali certe cose sono più naturali e questa va appunto a racchiudere quella fase adolescenziale dove si usano parole che sono di moda e dove si assumono posture che sono altrettanto di moda vengono in genere richiamate dai personaggi famosi che ci circondano questa serie nella sua colonna sonora nella sua intro fa un classico esempio di quello che può colpire lo spettatore con un intro sicuramente d'effetto non che il resto sia da buttare ma se dobbiamo analizzarla tecnicamente sia la grafica che i fondali e i modelli 3d complessivamente tolti gli acuti dei quali vi parlavo non è assolutamente cessa ma questo conta poco perché ci sono stati prodotti con una grafica non assolutamente eccelsa che sono stati comunque grandiosi come asbin hotel ce ne sono stati tanti nel recente che hanno avuto un ottimo impatto sul pubblico perché hanno presentato delle caratteristiche delle caratterizzazioni che hanno fatto comunque diventare grande il prodotto andando avanti con i capitoli vedremo se anche questo è il caso seppure o seppur si tratterà o se oppure perdonatemi si tratterà di un prodotto sicuramente di indubbio gradimento per la massa ma che non eccelle in nessuno dei campi che va a trattare la storia la costruzione dei personaggi non ne risultano sempre convincenti perché mi spiegherò meglio da un lato abbiamo queste figure che cercano di essere divertenti come il vampiro cinese ma che effettivamente poi non lo sono quasi mai nonostante cerchi anche in questo caso di essere moderno e quindi di diventare un influencer e ci riesce grazie alcuni short che carica sulle piattaforme digitali sui social network però effettivamente non riesce invece per me a divertire il pubblico almeno non il pubblico della metà magari il pubblico più giovane può trovare una maggiore affinità con i personaggi la storia di per sé anche se cerca di tramandare quelli che sono insegnamenti importanti ovvero che che quando una persona muore bisogna imparare a distaccarsi da essa lasciandola andare dove deve andare che spesso andare a cercare di risolvere problematiche connesse alla morte anche se fosse possibile riportando indietro ciò che non deve essere riportato indietro non sempre un bene anzi può generare più confusione che benefici ci sono quindi queste trame che fanno capire che la famiglia è sempre una cosa sacra dovrebbe essere tutelata contro tutti e tutti però sono morali che poi si cozzano vanno a cozzare con quella che è una costruzione generale della storia alquanto qualunquist è banale una storia che abbiamo già visto infinite volte della ragazza coi poteri del ragazzo coi poteri che va a scuola che si innamora che prima di uno poi dell'altro di quello giusto di quello sbagliato che deve affrontare dei nemici che la cercano perché lei non è altro lui non è altro che il fulcro del potere massimo che col potere massimo il cattivo riuscirà a fare qualcosa di tremento come in questo caso di assolutamente superfluo che va oltre poi quella che è la conoscenza dell'essere umano e si va a radicare nell'egoismo personale riportare indietro qualcuno che manca cercare di ricostruire un rapporto che è venuto a mancare cercare di ripristinare un momento di felicità che purtroppo non tornerà mai più quindi ci sono anche delle morali che sono estremamente corrette però nella lunghezza dei 13 episodi da 30 minuti che fanno diventare il prodotto quasi di 360 minuti e quindi una cosa infinita ci sono pezzi che sono del tutto superflui pezzi che si potevano comodamente tagliare c'è poca incisività sugli argomenti salienti c'è poca concentrazione poca dedizione nello sviluppare il prodotto in maniera artistica lo si fa in maniera prettamente commerciale questo non è un errore però a me per esempio non ha lasciato null'altro che un prodotto commerciale è chiaro che chi invece cerca un prodotto commerciale con una grafica che non sia estremamente raffinata e che lo sia semplicemente a tratti e non lasci quasi nulla di artistico ha trovato un prodotto che potrà valutare con dei voti estremamente alti questo ovviamente non è il mio caso perché io cercavo qualcosa di raffinato che si andasse a fondere tra hilda tra alvin hotel che si chiedesse una fusione di un prodotto con qualche innovazione andando anche ad attingere da quello che era il mondo cinese non ho trovato nulla di tutto ciò e pertanto nonostante reputi il prodotto gradevole sono stato abbastanza deluso da quelle che erano le aspettative che avevo riposto in esso questo non vuol dire assolutamente che il prodotto non sia valido ma sicuramente storia e costruzione dei personaggi non danno nulla in più di quello che poi va a racchiudersi in un prodotto prettamente commerciale ricapitolando quindi perché ormai sono senza voce gentri ciao contro il regno dei demoni è una serie televisiva animato ovviamente americana che va a raccontare di un genere o viene anzi catalogata in un genere soprannaturale ed azione o in un horror per ragazzi è stata creata da h.o.v è stata prodotta da netflix animation e time house inch ed è stata distribuita ovviamente da netflix a partire dal 5 di dicembre ed è composta da 13 episodi tutti disponibili per la durata circa di 30 minuti l'uno gentri ciao è un adolescente cinese americana che vive in una piccola città texana la ragazza scopre che un demone le sta dando la caccia per impadronissi dei suoi poteri con l'aiuto della zia che è un'esperta d'armi e di un millenario vampiro cinese uno yang xi cerca di sconfiggere un'orda di mostri del sottosuolo e al contempo di sopravvivere agli orrori che la sua scuola li regala tra un amore corrisposto e uno impossibile tra amici e nemici in un turbinio di emozioni che continuano a crescere la trama le informazioni generali sono quelle che vi ho appena detto la grafica fondali modelli 3d e colonna sonora sono alternanti ci viene sovrapposta ci viene proposta scusatevi una grafica che a me all'inizio ricordava un po' il dama che è estremamente più grezza meno raffinata una grafica che ha momenti eccelsi e momenti alquanto drammatici quindi dalla corsa dai movimenti che possono raggiungere dei punti quasi assoluti a le stesse cose che possono raggiungere dei punti estremamente drammatici mentre il cane ha cominciato ad abbagliare tutto questo anche parlando di fondali avremo fondali più credibili fondali estremamente ben riusciti fondali quasi artici e artistici e fondali del tutto insursi così come la costruzione dei mostri anche in questo caso ne troveremo pochi di credibili forse semplicemente il maggior antagonista che cambia forma e che è quasi sempre credibile gli altri sono fin troppo cartonosi per i miei gusti una colonna sonora sicuramente invece di effetto con una intro assolutamente bella che richiamerà il pubblico e lo catalizzerà andando a concentrare l'attenzione proprio su di essi e da lì sarà difficile staccarsi perché è tutto quello che un giovane cerca in una intro quindi una storia è una costruzione dei personaggi invece che ho reputato fragile diciamo uno stereotipo già utilizzato ed utilizzato della ragazza con poteri del cattivo che la cerca perché i poteri servono a qualcosa di estremamente malvagio in questo caso no a qualcosa di estremamente sconsigliato ovvero andare a ritoccare qualcuno che ha abbandonato il mondo dei vivi e riportarlo in esso una cosa che più che altro è un mito e che non mi sentirei di consigliare neanche se fosse realtà al mio peggiore nemico con un voto di sei e mezzo mi sento di suggerirla a tutti gli amanti del genere a tutti gli amanti che cercano un prodotto fresco con un po d'azione senza nessun picco artistico fatemi sapere cosa ne pensate attraverso i vostri commenti se vi va iscrivetevi al canale lasciate un mi piace un commento e attivate le notifiche io come sempre vi ringrazio un ciao dai aimi